Tornano gli stati generali dell'economia abruzzese con Abruzzo Economy Summit per la seconda edizione. L'evento è promosso dalla Regione Abruzzo con la media partnership del centro, Rete 8 e il Sole 24 Ore con diversi patrocini. L'obiettivo è promuovere un confronto di altissimo profilo a livello nazionale. A presentare l'evento che si terrà giovedì, primo e venerdì 2 dicembre a Pescara, presso il padiglione di Becci, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. L'Abruzzo torna ad essere protagonista di una riflessione sull'economia che non è soltanto locale ma una riflessione di valore nazionale e internazionale con ospiti del calibro di Edward Luttwack che discuteranno insieme a ministri, ex ministri, economisti, capitani d'azienda, pubbliche e private importantissimi. Il destino, le prospettive sull'economia è in un momento molto delicato e mentre il governo sta per pubblicare la sua prima legge di bilancio della legislatura che si sta aprendo. Apriamo un momento di riflessione che rende di nuovo, come tanti altri eventi, l'Abruzzo protagonista del dibattito e riportiamo il nostro territorio, le nostre aziende, le nostre attività e anche le nostre politiche al centro della riflessione sullo sviluppo economico.